Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, oggi ragazzi siamo qui finalmente con i premi di squad battle, primi premi di squad battle di FIFA 23 ovviamente ho fatto fuori dell'asse 1 circa 42.700 punti anche se ne bastavano un 40.700 più o meno quindi alla fine ieri sera mi sono fatto tutte le partite giusto per essere sicuro di poter fare fuori classe 1 ragazzi prima di aprire questi premi mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti vi ricordo che in descrizione trovate il mio canale Twitch, seguitemi ragazzi che appena usciranno SBC importanti farò anche le SBC dove le farò sia live e poi le porterò in video quindi seguitemi, poi trovate tutti i restanti link quando riguarda siti di videogiochi, carte regalo playstation, trovate di tutto allora, i premi sono pronti, andiamo in squad battles ecco qua ragazzi, fuori classe 1, quindi mi danno 26.000 crediti con due pack da 50.000 crediti allora questa intanto è la, vabbè sono le nuove squadre, il nuovo aggiornamento vabbè, oh intanto ho circa 60.000 crediti, buono allora allora, qua ieri ho aperto tutto, fatemi controllare una cosa, sì sì questo qua sì oddio, io in realtà non è il primo pack da 50.000 che apro, è questo qua ne ho aperto già uno che poi vedrete poi sul canale in settimana dato in settimana, probabilmente anche domani che comunque lunedì vi faccio vedere la mia squadra quindi, perché comunque ve la devo far vedere allora, partiamo subito con questo di sinistra, dai dai, mi aspetta meno workout, dai, voglio un primo workout mi sembra la magna, esatto, sì, mount, ok sì sì sì, che la magna, per esempio i faretti in basso quando sono spenti e sono a terra loro per esempio si accendono quindi adesso sono spenti quei faretti nei lati sono spenti, si alzano e si lumiano da lì significa la magna ok, io vorrei trovare workout oddio oddio se questo, ma questa era la fine quello che giocava nel Leicester se costa veramente tutti questi crediti ho scusato parecchio abbiamo questi suoi giocatori minchia, se questo veramente costa 30.000 crediti questo ma è vero sta cosa minchia, lo vattene subito ah, go sense non è più 83 vabbè, è giusto così comunque ovviamente questi sono pack scambiabili fatevi vedere giusto a voi intanto sto accumulando pure i giocatori per fare l'SBC quindi, in particolare adesso di SBC non c'è poco e nulla dai, adesso voglio un walk out dai su, madonna, fammi un walk out ovviamente è la magna non è walk out purtroppo Busquets 85 l'anno scorso che cos'è Busquets? 86 forse era probabilmente sì cioè un 85 costa 7 cioè costa 5.000 crediti ma i prezzi qua i prezzi qua devono ancora aumentare ad esempio Umels che è un 84 costa 2.000 crediti solo per ma no, ma l'hanno poi ammazzato ma l'anno scorso Umels è un 86 ma l'hanno ammazzato che velocità l'anno scorso non è che era che faceva faceva proprio schifo l'anno scorso Smygol ah, Smygol è andato all'inizio vedete, queste cose manco le sapevo quindi ok, ok, va bene ma mi stacca che comunque ho comprato mi dico solo che l'ho comprato e niente buone lavagne per lesbi sì, però vorrei trovare anche un primo walk out sul console visto che comunque un walk out lo trovai perché ha visto comunque il video praticamente la web app sanno, la gente sa che ho trovato come walk out ma io vorrei trovare un walk out qui sul console e niente sarà per la prossima settimana vabbè ragazzi dai, questi premi di Furiglass 1 di Squad Battles li abbiamo aperti il video termina qui mi raccomando lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanella per rompere i prossimi contenuti date un'occhiata a tutti i link in descrizione noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao